Ciao a tutti ragazzi insieme a Laura e Robb e abbiamo visto un nuovo video in cucina. Esatto, oggi andremo a cucinare mezze pene rigate al ragù, che è di una scatola sorgilato e appunto poi dopo noi prenderemo appunto una scudella appunto per la colazione, lo metteremo nel microonde che abbiamo alla nostra sinistra, cioè di fronte, per appunto schergarlo. Allora quella cosa è già volendo, quindi facciamo veloce. Nel frattempo che ci cucina monteremo i video. Ti viene registrato già due video, raga, questo terzo. Uno, due, tre, sattro, le faccio non mi muovere. Da, alcune volte lo distingo, mi faccio non mi vedi. No, il bacio mi vuoi un po' mica mancare. E cinque. Oh, te li stava pene. Sì, il resto passa perché ovviamente ce l'ha finito reso freddo, quindi mischiamo, magari non lasceremo stare, adesso vediamo tantimino. ragazzi, per chi non lo sa, mi hanno già chiamato un po' di agenzie, tipo l'immobiliare per appunto le case, per appunto i monologali, che almeno fino a la trovo, anzi appena la si trova, io e mia moglie andrò a vivere insieme. Che bello. Eh, infatti mi vedo l'ora. Ma io l'ho sentata già con mia moglie. Anche io. Niente, quindi adesso ovviamente. Aspettiamo che la, la solita storia. Esatto. Aspettiamo che la pasta ricomincia a, come dice? Ricomincia a bollire, poi assaggeremo. Assaggeremo. Quanto devono cuocere? E lì. Ah, 10 minuti, però al dente. 10 minuti, però al dente. 10 minuti di solito, quindi. Si, sono 8 alle 7, poi 7 e 2, è pronto. Dunque noi assaggiamo. Quindi noi stoppiamo e ci vediamo. Esatto. Ci vediamo direttamente all'assaggio. Esatto. Cosa è vero, vi diciamo un po'. Anche perché, oltre adesso a montare i video, cioè perché C'è nato una prima madre della tutta. Ok. Deve ancora arrivare il tecnico. Eccomi. Ok. Comunque stiamo dicendo perché, oltre ovviamente a tenere controllata la pasta, dobbiamo anche a fine di montare i video. Esattamente. Che abbiamo registrato due video, prima di registrare, cioè prima di cucinare. E spero che vi piaceranno. Esatto. Non spoiler però. Esatto. E soprattutto un altro video che abbiamo registrato ieri, che era il nostro ampetto. Esatto. Un appunto che lo vedrete mercoledì. Alle 2.20. Esatto. Fateci sapere anche nei commenti, ragazzi, se volete appunto un video in più e una live e un video in più. Ovviamente chi vedete voi il giorno e ovviamente l'orario e ovviamente sempre l'orario per le live. Adesso non lo vogliamo voi. Cos'è? Sarebbe un modo per interagire con voi per il piano. Esatto. perché bene che stiamo capendo i vostri argomenti cioè gli argomenti che vi piacciono però anche per noi è importante fondamentalissimo capire quali sono gli argomenti perché gli argomenti che stanno cadendo appunto che non vi interessano e che appunto non vi piacciono proprio nel suo canale ovviamente li lasceremo da parte non li toccheremo neanche se per caso volete qualche video non so del calcio ovviamente furtavo no perché ovviamente non è finito il campionato però se volete noi facciamo non so vi diciamo le nostre considerazioni magari del Monza che giocavo sì sì di vero sì ma anche del calcio mercato che ovviamente adesso sta nel palio 2 dal calcio mercato se mi interessa ovviamente qualche notizia che noi vi diciamo cosa ne pensiamo infatti ce lo sapete nei commenti che almeno noi lo sappiamo diciamo che abbiamo aspettato anche fin troppo tempo stavamo facendo no giustamente delle copertine dei video ovvio non pensate a cose sconci ovviamente stavamo facendo le miniature dei video perché appunto ci stanno andati dobbiamo montarli tutti quindi ci stanno andati nel frattempo che appunto qua era c'è chi c'era la pasta appunto ma l'hai stagiata d'amore? no non ancora sarà pronta a schiesto punti si vede a 7 5 e la 7 e la 8 e la 8 e la 8 e la 8 e la 7 quando l'abbiamo messo a pasta e cosa è un po' che dice su e lì sale com'è con il tuo vuolo ok perfetto ma se ci sale raga ci scende rai amore mio oppure oppure rai se ci sale non più più 2 o zucchero 2 e l'anno molto più e io mi sono tutto amore ma e e e e e e e e e ok ma che vuoi vuoi? nooo è una cosa bucina da un po' l'anno sono stato io perché ovviamente quando ho messo la pasta nella pinta non mi ho messo concerto oh raga mia moglie ha richiamato il concetto non c'era con un concetto quindi dai amore mio ti sto nata io quindi è vero raga non è fatta vero non è fatta vero ah raga mia moglie sa non ti mamma di oggi sono in ansia mamma mia io sono stonata dai amore è vero è una partizia che ci sono veramente in ansia oggi per il mondo se dovessi vincere dentro il piso come si ria hai amore guarda hai amore oddio se la goncela ok vai parti questi momenti un po' di di stupidaggi vai amore è arrivato una cagnolino ecco a voi ah il sugo che scotta come non so cosa amore oggi perchè scotta tanto ma quanto l'hai fatto? fai 8 minuti quindi 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 cosa ti serve adesso non devi mettere nella pentola la pasta si infatti si guarda te la tengo ah grazie amore scotta cazzo può rimanere la pena eh si ora che sennò è bollente vai amore di non fare disastri odio 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 vai bravo mamma mia tutta la carne si si iniziamo così poi vediamo se non basta le metterò alto di carne se no c'è di alto di suino esatto mmm che profumino come ne provo a sentire profumo ok vado ovviamente il sugo raya non è comprato il fatto da mia mamma con i pomodori del nostro lampetto mamma mia infatti non ti vuoi prevedere siccome le volte il suo c'è ragò non c'è senza affesa però quelli del supermercato vanno dentro i coloranti vanno dentro magari i conservanti che sono in casa e pomodoro carne che compri cioè si carne che compri però c'è pomodoro cioè sono fatto in casa comunque è biologico amore dimmi amore ho fame è pronto che stui ed è che ci va con la coca con la coca acqua ovviamente il mio martino non appetito marmino non appetito adesso vediamo cosa di la mia moglie della cucina tranquilli dopo metterla nei crani quindi è andato tranquilli buona amore eh ottimo sono molto contento marmino tazzo buona amore non è più lunga buona amore noi ragazzi vi salutevamo portofono non facciamo vedere che iniziamo ad assaggiare perchè appunto ho visto adesso che la batteria della videocamera portofono è scarica perchè abbiamo amore ci è stato qualche video quindi giustamente è giusto vanno a riposare anzi a ricaricarsi quindi nulla quindi dai diciamo amore il mio amore di beve dai amore giù 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 da parte di scherzi ovviamente ragazzi se ovviamente come ci è stato detto che vi piacciono appunto ovviamente i video mentre noi cuciniamo appunto scriveteci nei commenti appunto che tipo di ricetta volete che ovviamente noi cuciniamo non va quindi quindi ragazzi ragazzi lasciate tanti like tanti commenti se mi uscite il canale attivate la campanellina va beh questo amore condividete il video dappertutto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao e buon appetito